La ex caserma Cavarzerani non è più zona rossa, tutti negativi tamponi ai migranti ospiti fuori dalla struttura protesta dei residenti per la situazione del quartiere, saremo live. 33 nuovi contagi in regione, terapie intensive però vuote, in Italia sono 1367 i nuovi contagi, dato più alto dai primi di maggio, effettuati però 20.000 tamponi in più rispetto a ieri. Oggi il confronto tra governo e regioni per la riapertura delle scuole per Fedriga non ci sono indicazioni chiare e linee guida si rischia di non partire al via i test sierologici sul personale. Non aveva le necessarie autorizzazioni e così i NAS di Udine hanno messo i sigilli a una struttura per anziani di Gorizia travestita da agriturismo, all'interno 10 persone. Musso e lasagna non sono sul mercato, lo ha dichiarato il responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino che ha anche affermato che non ci sono offerte per Depol. Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento in diretta con l'informazione di Udinese TV. Apriamo con le questioni cittadini e in particolare sulla situazione dell'ex caserma Cavarzerani perché da oggi la ex caserma non è più zona rossa, negativi tutti i tamponi effettuati con qualche difficoltà sui tanti migranti ospiti all'interno della struttura ma non si placano comunque le proteste. Da un lato i cittadini e i residenti che hanno organizzato proprio in questi minuti l'ennesima protesta, dall'altro invece l'amministrazione comunale che ieri con il sindaco Fontanini, proprio i nostri microfoni e oggi con l'assessore Ciani è tornata a chiedere al ministero dell'interno di alleggerire la caserma. Dopo sentiremo le parole dell'assessore Ciani ma adesso colleghiamoci proprio in diretta con Via Cividale e di fronte alla ex caserma Cavarzerani c'è la nostra Francesca Santoro che è andata a seguire questa manifestazione ormai annunciata da giorni tramite un tam tam su Whatsapp, una manifestazione che è stata dichiarata come apolitica, si chiamavano a raccolta, i cittadini che hanno a cuore la situazione del quartiere, anche se la situazione in questo momento è più tranquilla con la quarantena non più attiva, quindi non ci sono più possibilità di fughe da parte dei migranti che sono liberi di entrare ed uscire con i tanti tamponi che sono stati effettuati e che sono negativi come abbiamo verificato quest'oggi. Una situazione comunque che da tempo viene denunciata da parte dei comitati, dei residenti e dei cittadini. Vediamo allora quali sono le tematiche che vengono affrontate quest'oggi. Vedo Francesca collegata proprio di fronte alla caserma dove già si sono posizionate diversi membri della polizia, diverse pattuglie sia della polizia, della questura ma anche dei carabinieri, molto presidiata la zona in vista proprio di questa manifestazione. Ecco la nostra Francesca che appunto si trova live da via Cividale. Buonasera Francesca, date la linea. Sì, buonasera Valentina, siamo all'esterno della caserma Cavarzerani. Come puoi vedere inizia ad assembrarsi la gente, i manifestanti, una manifestazione di protesta a politica nata dal passaparola. Ci sono dei residenti della zona ma ci sono anche persone provenienti dai comuni limitrofi. Lei è un residente, per quale motivo ha deciso di partecipare a questa manifestazione? Io sono venuto a vedere questa manifestazione perché sono un cittadino dinese, soprattutto sono un cittadino italiano e sono veramente esausto, sono saturo di questa situazione che il nostro governo ci sta propinando, ci sta somministrando e noi passivamente dobbiamo accettare tutto questo. Questi signori che sono qui dentro, in questa struttura militare, sono delle mine vaganti, non danno nessuna sicurezza, anzi leggiamo ogni giorno che tutto questo apporta motivo di delinquenza. Insomma, vediamo di sensibilizzare l'opinione pubblica e vediamo di sensibilizzare la linea politica. Da oggi la caserma non è più zona rossa, che significa che le persone che vi sono ospitate possono entrare e uscire. Avete già visto del movimento? Chi ce lo dice che non è più zona rossa? In fin dei conti questi hanno avuto un periodo di incubazione, come previsto, un periodo di quarantena, come previsto. Ma chi ci dice che queste persone non sono venute a contatto e hanno comunque diffuso la malattia? Io così, per sentito dire oggi nelle strade del quartiere, ho sentito dire che oggi un'aliquota di questi signori sono usciti, si sono recati in centro, hanno preso l'autobus, hanno socializzato sicuramente con altre persone in Udine, quindi la bomba diciamo si è diffusa. Dicevamo anche persone provenienti da altri comuni e limitrofi, lei appunto non è residente della zona ma ha voluto partecipare a questa manifestazione. Buonasera, sì, esattamente, non sono residente della zona, abito a Nimis, però mi sento solidale con i gruppi che manifestano, perché manifestano un disagio che è diffuso, purtroppo fin da troppo tempo, sotto l'indifferenza delle autorità, sotto l'indifferenza di un governo che non è il nostro governo, che io non ritengo legittimo perché non è stato eletto dal popolo, va bene, ha portato e porta l'Italia a una crisi identitaria senza precedenti, l'italiano non è mai stato razzista, l'italiano ha colto, l'italiano ha aiutato fin troppo, va bene, adesso si sta oltrepassando il segno, adesso abbiamo problemi di salute pubblica, abbiamo problemi di sicurezza perché sappiamo bene che Udine è diventata una città invivibile in certe aree, no, Udine era una città meravigliosa, una bella città e si viveva con serenità, adesso la gente stufa, la gente si è incattivita, la gente non si ferma più per strada a raccontare né a ridere, la gente è imbestialita per queste robe. Il malcoltento quindi è grande, lei ha portato anche una bandiera del Friuli per testimoniare la vicinanza alle persone della zona. Noi siamo friulani, friulani non arrivati ma siamo da centinaia d'anni con la nostra cultura, con il nostro modo di vivere, con la nostra educazione, noi non siamo prepotenti però quello che chiediamo lo chiediamo con fermezza, noi chiediamo al prefetto di Udine che si faccia portavoce col governo, che ci mandi dei militari che vadano a presidiare i confini e anche a chiuderli se serve, perché noi, specialmente noi donne, vogliamo essere sicure di poter muoverci a ogni ora, mattino e sera sempre, senza dover avere questa paura di essere aggredite oppure importunate da questi personaggi. Quindi noi chiediamo al prefetto, ripeto con educazione ma con fermezza, che ci faccia questo. E queste persone che dalla caserma Cavarzerani verranno spostate non si pensi di spostarle nei piccoli comuni perché vuol dire andare ad invadere e non poterli più controllare. Queste sono delle mine vaganti. Ecco Valentina, questa è l'aria che si respira al di fuori della caserma Cavarzerani, abbiamo sentito le voci di alcuni dei partecipanti alla manifestazione di protesta, ti restituisco la linea. Francesca, caso mai te la restituiremo? Se ci dovessero essere delle novità, abbiamo visto circa una cinquantina di manifestanti, comunque ben a distanza dalla caserma, dall'altro lato della strada, caserma comunque presidiata dalle forze e dell'ordine. Ci stiamo comunque di precisare che la zona rossa viene decisa da parte dell'amministrazione comunale per la presenza eventuale di contagi da Covid-19. Così non è, quindi evidentemente gli ospiti della Cavarzerani sono risultati tutti negativi e il sindaco Fontanini non ha prolungato la zona rossa. Ha chiesto però già ieri ai nostri microfoni, l'ha ribadito oggi anche attraverso le parole dell'assessore Ciani al ministro Lamorgese di alleggerire la presenza di migranti nella caserma. Sentiamo le parole dell'assessore alla sicurezza. Ha confermati tutti i test negativi, adesso quali gli sviluppi? Questa mattina l'azienda sanitaria ci ha dato il dato definitivo dei tamponi, quindi sono tutti negativi. Ovviamente ciò significa che le precauzioni che il Comune, la Prefettura, l'azienda sanitaria in queste settimane hanno adottato hanno portato risultati importanti a tutela della salute pubblica perché questo è stato il nostro unico obiettivo, cioè garantire il fatto che gli sforzi che i cittadini di Udine in questi mesi hanno fatto per il contenimento della diffusione del virus non venissero buttati al vento per il problema migratorio che in questi periodi purtroppo si unisce al problema sanitario. Adesso la Questura ovviamente organizzerà tutti i presidi per fare in modo che la situazione torni alla normalità. La cosa fondamentale però è la nostra richiesta che pare, ecco, verrà accolta, di alleggerire notevolmente il numero di migranti alla Cavarzerani. Questa mattina, come praticamente tutti i giorni, sono stati in contatto con la Prefettura. Noi siamo molto molto ottimisti affinché effettivamente questo alleggerimento delle presenze ci sia e ci sia in tempi molto brevi. Quanti migranti vorreste trasferiti in altra sede? Noi abbiamo chiesto che vengano trasferiti almeno 200 migranti, penso che sia una richiesta di buon senso, penso che la città di Udine abbia ampiamente dato in termini di accoglienza e ritengo che sia una richiesta di buon senso. Quindi siamo, ecco, lo ribadisco, ottimisti sul fatto che la Prefettura e il Ministero dell'Interno accolgano la richiesta della città di Udine. C'è una pressione molto forte anche da parte dell'amministrazione regionale nei confronti del Ministro affinché questa richiesta venga accolta. Nuovi gruppi di migranti giunti attraverso la rotta balcanica sono stati rintracciati questa mattina in Regione. La Polizia di Frontiera ha intercettato una ventina di persone per lo più originarie dall'Afghanistan nell'area di Trieste, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, mentre dalla zona dei boschi si dirigevano a piedi verso i centri abitati, tra di loro alcuni minorenni. A Manzano la Polizia ha ritracciato un'altra decina di persone, la cui presenza era stata segnalata poco prima a San Giovanni al Natisone. Il Sindaco ha confermato i rintracci. Si tratterebbe di circa 25 persone fra San Giovanni, Manzano e anche Pradamano. Alcuni gruppi più piccoli, ancora però non individuati dalle forze dell'ordine, si sarebbero visti a Gonars e a Palmanova. E venendo alla situazione del Covid, dei contagi, oggi nuovo balzo di contagi in Regione 33, questo il numero odierno dalla comunicazione dell'assessorato alla salute della Regione, un numero in aumento rispetto ai nove casi registrati ieri e ai due rilevati lunedì, mentre venerdì e sabato erano stati riscontrati rispettivamente 36 e 33 nuovi casi. Le persone attualmente positive sono 330, 21 in più di ieri. Nessun paziente però in terapia intensiva, 14 ricoverati in altri reparti, 307 in isolamento. Ed è invece un nuovo boom, quello dei contagi in Italia, 1367, il numero più alto registrato dai primi di maggio nelle ultime 24 ore. È questo il numero diramato questo pomeriggio, il dato appunto più alto dai primi di maggio, 13 i morti, in aumento rispetto ai quattro di ieri. I tamponi però sono stati moltissimi, 93 mila 529, quasi 20 mila più di ieri. Questi sono i dati del Ministero della Salute. È raddoppiato quindi l'incremento delle persone attualmente positive. L'incremento è di 1.039 persone a fronte delle 519 di ieri. Forte spinta del numero delle persone in isolamento, sono 1.039. Calano di 3 unità i ricoveri e aumentano di 3 quelli in terapia intensiva. Il dato dei decessi è in aumento 13, 35.458. Lo vedete, ci sono 13 decessi in più, ma quest'ultimo dato include anche gli 11 decessi in Veneto, tra i quali sono conteggiate alcune persone malate recentemente, ma morte dopo essersi già negativizzate dal virus. Questo per la precisione. Adesso invece veniamo alla situazione della scuola, che ovviamente è condizionata pesantemente dai contagi del Covid. Fumata nera nel confronto fra il Stato, quindi fra Roma e i governatori. Fedriga denuncia come non ci siano ancora certezze necessarie per l'avvio del nuovo anno scolastico il 14 di settembre. Tra i nodi da sciogliere, il trasporto degli studenti, l'organico aggiuntivo e le forniture di banchi e mascherine. Sentiamo il servizio. Indicazioni chiare in tempi rapidi e quanto richiesto dalla Regione al Governo per assicurare la riappertura in sicurezza delle scuole, il 14 settembre, dall'odierna videoconferenza tra Ministri e Regioni, non sono emerse novità in termini operativi e organizzativi, come rileva il Governatore Massimiliano Fedriga. Le zero novità emerse, dal vertice tra Governo e Regioni, non rappresentano un esito soddisfacente per la nostra comunità, che dopo lunghi mesi di sacrifici merita di ottenere risposte immediate. In caso contrario, il rischio di bloccare l'intero sistema e di non garantire i diritti di famiglie e ragazzi. D'intesa con le altre Regioni, in Friuli Venezia Giulia ha condiviso la richiesta di calendarizzare una serie di incontri periodici con il Ministero dell'Istruzione per garantire un avvio ordinato e uniforme dell'anno scolastico. Tra i nodi ancora risolti spicca il problema del trasporto degli studenti, per il quale non sono state ancora indicate a livello nazionale soluzioni sostenibili. Restano grandi anche le incertezze legate alla necessità di disporre di organico aggiuntivo, così come non sono stati definiti tempistiche criteri di distribuzione dei banchi. Per quanto riguarda le mascherine di protezione per gli studenti, non è stato ancora chiarito se saranno fornite dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 o se dovranno essere procurate dalle Regioni. A denunciare come sia sempre più ingarbugliata la situazione è anche il segretario della Cisle FVG, Franco Colauti. Se domani non sarà approvato il documento del Comitato Tecnico Scientifico sulle linee guida, che dovrebbe dare delle indicazioni certe su come muoversi, chiediamo alla Regione la convocazione urgente in un tavolo di regia anche con l'Anci per approntare un piano B che assicuri la piena ripresa della scuola in Friuli Venezia Giulia. Intanto la Regione si è mossa per i kit di indagine sierologica dedicati ai professori, personale ATA e personale amministrativo. Sono 24.300 i kit forniti alla Regione per l'esecuzione dei test sierologici, al personale scolastico e sono già stati distribuiti alle aziende sanitari. L'esecuzione viene effettuata da parte dei medici di base e delle aziende sanitari e partirà appunto a breve. Come? L'azienda sanitaria universitaria Giuliano Izzontina avvierà lo screening sierologico per le scuole domani, scusate, venerdì. La campagna di screening prevede un'adesione a base volontaria e gratuita in due fasi. La prima consiste nel test sierologico rapido sul sangue capillare del polpastrello, la seconda nel tampone nasofaringeo, obbligatorio per tutti coloro che risulteranno positivi al primo esame. Quindi ci vuole la collaborazione dei medici di medicina generale. Per l'azienda sanitaria Giuliano Izzontina i test saranno eseguiti comunque anche negli ospedali di Gorizia, Monfalcone e al Maggiore di Trieste, oltre che appunto negli ambulatori. Per l'azienda sanitaria Friuli Centrale invece i test si svolgeranno al Gervasutta di Udine, oltre che nelle sedi dei distretti sanitari di Tolmezzo, Ovaro, Gemona, San Daniele, Codroipo, Tarcento, Cividale e San Giorgio di Nogaro. Il ritorno sui banchi è molto auspicato da parte delle famiglie, ma non solo, perché abbiamo voluto sentire una psicologa psicoterapeuta proprio da questo punto di vista. C'è la necessità anche per i ragazzi di ritornare a scuola, di continuare a socializzare e anche di affrontare le eventuali difficoltà da distanziamento e da mascherina. Sentiamo. Ritorno a scuola con mascherina, distanziamento, forse l'ipotesi di una nuova didattica a distanza. Tutte queste cose nei bambini e anche nei genitori suscitano preoccupazione. Sì, è vero, c'è un clima un po' teso, soprattutto per questo rientro a scuola, però quello che possiamo dire è che i bambini assolutamente hanno bisogno di tornare a scuola. Hanno bisogno di tornare a scuola, questo lo dicono soprattutto i genitori, hanno bisogno di stare tra di loro. I bambini hanno una caratteristica molto fondamentale che noi adulti facciamo fatica, che è la resilienza. Hanno la capacità di trasformare le cose e hanno la capacità di adattarsi, molto più facilmente di noi adulti. Quindi ci vorrà del tempo, però questi bambini con questo ritorno a scuola, con quello che c'è da fare, con tutti i crismi del caso, ma dovranno ritornare a scuola e si adatteranno a questa nuova situazione. Ci vorrà ovviamente un po' di tempo e soprattutto bisognerà solo cominciare, come è stato per rientrare al lavoro, come è stato per i centri vacanza, come è stato in generale per altre situazioni, ma ci vorrà appunto un po' di tempo, della pazienza per attraversare questo momento, questo limbo di incertezza. Non ci sono problemi però nell'uso della mascherina, nel fatto che magari non possono abbracciare gli amichetti, si abituano i bambini? Sì, i bambini si abituano. Ovviamente una cosa fondamentale di cui il bambino ha bisogno è sicuramente un contatto anche di vicinanza con il proprio compagno, eccetera. Allora, quello che io posso dire è che ci vorrà non un clima sicuramente troppo severo, ma neanche troppo permissivo, ma un clima tollerante, un clima tollerante parlando anche con il bambino rispetto anche a quelle che sono le sue esigenze, soprattutto per i bambini, sto parlando quelli dai sei anni, che hanno ancora bisogno di questo tipo di contatto. Però già ritornare a scuola rappresenta una vicinanza emotiva. E' una cosa che dobbiamo dire fondamentale, che non chiamiamolo più distanziamento sociale, ma chiamiamolo distanziamento fisico, perché emotivamente abbiamo bisogno, hanno bisogno questi bambini e questi ragazzi di vicinanza. Passiamo alla cronaca. I NAS di Udine hanno sequestrato un agriturisma a Gorizia adibito a casa di riposo. La struttura in via degli Scogli è risultata sprovvista delle necessarie autorizzazioni, con personale privo dei requisiti richiesti dalla normativa di settore. Non avevano le necessarie autorizzazioni e il personale impiegato era privo dei necessari requisiti. Stamattina i NAS di Udine hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Gorizia sulla base della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica e hanno sequestrato l'agriturismo Siliconum di via degli Scogli a Gorizia, adibito dal 2013 a casa di riposo. L'indagine, che ha portato il provvedimento cautelare, ha preso le mosse da un controllo da parte dei carabinieri nell'ambito della campagna denominata Estate Tranquilla. Emerso appunto che i titolari dell'agriturismo avevano attivato e mantenuto in esercizio in quella struttura una residenza per anziani autosufficienti e non autosufficienti, senza le prescritte autorizzazioni previste dalla normativa di settore e impiegando personale privo dei richiesti titoli professionali. La struttura è risultata ospitare dieci anziani che, su disposizione dell'autorità sanitaria, sono stati ricollocati presso altre case di riposo regolarmente autorizzate. I titolari sono indagati ora per i reati di esercizio abusivo della professione infermieristica, truffa ai danni dell'Inps e violazione delle norme urbanistiche in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro. Dovranno rispondere anche di violazioni di carattere amministrativo della normativa regionale in materia di strutture sociosanitarie e delle norme sulla privacy. E veniamo agli interventi del soccorso alpino. A Forni di Sopra, una ciclista di 34 anni, residente a Trieste, è caduto violentemente durante una discesa da Casera Tartoi, in prossimità dell'arrivo nell'abitato di Forni. Traumi alla spalla in altre parti del corpo per il giovane. Fortunatamente indossava il casco protettivo andato distrutto. Un'altra donna anziana, residente a Udine, è rimasta ferita. Invece per una caduta a Tarvisio, mentre percorreva il sentiero del Belvedere, i laghi di Fusine, trauma cranico e lussazione alla spalla per lei. Soccorso alpino è impegnato anche a Forni a Voltri per un anziano ritrovato in difficoltà da un altro escursionista. A Trieste, invece, scoperto un supermercato della droga e individuato, sempre a Tarvisio, l'autore del tentato furto alla telecabina. Sentiamo tutto nel nostro consueto servizio di cronaca. Due coppie di coniugi di 84 e 55 anni di albanesi e di 56 e 53 anni italiani sono state arrestate a Trieste dalla polizia per spaccio di cocaina. Sette in totale le persone indagate. I due albanesi rifornivano la coppia italiana, che aveva trasformato il suo appartamento di via Molino a Vento in un supermercato della droga. Nel corso dell'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura e svolta dalla sezione antidroga e della squadra mobile, sono stati effettuati tre sequestri di cocaina a carico di alcuni acquirenti del 56enne, uno dei quali arrestato e due indagati in stato di libertà. In alcuni casi lo stupefacente era consegnato direttamente a casa dalla moglie del 56enne, ristretto ai domiciliari dopo un'altra operazione antidroga. A quest'ultimo sono stati contestati 58 capi di imputazione relativi ad altrettanti episodi di spaccio commessi da giugno 2019 a marzo 2020. Gli operatori della stazione di forni a voltri del soccorso alpino e speleologico sono intervenuti nel pomeriggio sul monte Dobis, tra il canale del But e il Tagliamento, per aiutare un anziano trovato con una ferita alla testa. A dare l'allarme è stato un giovane che stava salendo verso la cima del versante di Fusea e che ha trovato in malcapitato una quota di circa 1000 metri. Il ferito è stato raggiunto dalle squadre di terra, composte da soccorritori del soccorso alpino e della Guardia di Finanza, tra cui un infermiere, e poi intervenuto l'elissoccorso regionale per il recupero. Tentato furto aggravato in esercizio pubblico, di questo dovrà rispondere un 33enne della Val Canale, denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tarvisio. Le indagini hanno portato a scoprire che nella notte di lunedì l'uomo ha tentato di rubare nella biglietteria della telecabina del Monte Lussari. L'attivazione del sistema di allarme antintrusione ha però mandato all'aria il colpo. Con una grossa leva di ferro, l'uomo aveva forzato la porta della telecabina per farsi strada verso le casse. Ritardi dei treni fino a 100 minuti sono stati registrati questa mattina sulla linea Venezia-Trieste, a causa di un guasto il sistema di distanziamento dei treni sull'unico binario attivo nel tratto tra Bibio d'Aurisina e Trieste. Il traffico, precisa rete ferroviaria italiana, è stato rallentato dalle 7 e le 10. Un treno regionale è stato cancellato, mentre altri 10 hanno maturato un ritardo tra i 40 e i 100 minuti e un intercity di 20 minuti. Sei convogli regionali e un intercity sono stati limitati e sostituiti da autobus. Fino al 29 agosto sono in programma lavori di risanamento tra Bibio d'Aurisina e Trieste, per cui il binario è disparo e interrotto e la circolazione si alterna su un unico binario. Oggi un incontro con i sindaci della nostra regione nella sede dell'amministrazione udinese per fare il punto sui danni provocati dall'eccezionale ondata di maltempo di novembre 2019. Un confronto fra l'assessore Riccardi e i primi cittadini, perché avranno tempo fino al 7 settembre per i sopralluoghi e la presentazione delle domande di finanziamento. Sentiamo. Assessore, anche in Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni si sono ripetuti diversi fenomeni di maltempo. Oggi parliamo di quello del 2019, ma la prevenzione resta alla base. Io credo che questa sia un'ulteriore occasione dopo Vaia per una ricognizione più aggiornata dei punti di difficoltà e di fragilità del territorio. Non ci sono soltanto le opere da realizzare perché diventano necessarie perché sono stati colpiti dai territori e questi sono stati in qualche modo distrutti. Non c'è soltanto questa lettura, ci deve essere anche una lettura preventiva, perché le disposizioni stabiliscono interventi di sicurezza, prevenzione e resilienza. Quindi significa che noi dobbiamo riuscire a guardare anche i punti di crisi che potrebbero in qualche modo essere messi in difficoltà nel momento in cui ritornasse il maltempo e purtroppo questo è un tempo nel quale dobbiamo abituarci a questi eventi. Il cambio climatico e la fragilità del territorio è un'evidenza. Quindi io credo che questo sia una forza importante per questo che abbiamo voluto chiamare tutti i comuni in maniera che questa ricognizione venga fatta, venga aggiornata rispetto a quello che è accaduto nel 2018. Facciamo tesoro della grande esperienza di Vaia che sta proseguendo e che ha consentito alla regione di portare a casa molti soldi e di mettere in campo un modello che vede i comuni in prima linea che ha consentito di fare dei lavori importanti. E soprattutto troviamo delle soluzioni, dei tagli di lavori che ci consentano di intervenire con tutte le procedure semplificate in maniera che poi alla fine le risorse non siano soltanto a disposizione della sicurezza del territorio ma siano anche e soprattutto in una risposta ad una necessaria riavvio della dinamica economica che riguarda in particolare il sistema professionale e la piccola e media impresa. Questa è la strategia che abbiamo messo in campo con Vaia e io credo che su questa linea bisogna proseguire. E adesso invece passiamo allo sport perché possiamo mostrarvi in esclusiva le prime immagini di allenamento di questa stagione e prosegue infatti la preparazione della squadra dell'Udinese anche oggi una doppia seduta in cui il gruppo si è allenato alternandosi tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico per tutti gli effettivi. Domani ancora una doppia seduta per mettere benzina nelle gambe e preparare la prima uscita stagionale di sabato a Manzano contro il Vicenza alle ore 19 che potrete seguire in diretta ed in esclusiva su Udinese TV con prepartita dalle 18.30. Però è bello mostrarvi la squadra di nuovo al lavoro sul campo con il pallone e comunque tutti insieme. vediamo Kevin Lasagna, lui e anche il portiere Juan Musso sono stati definiti come incedibili, non sono sul mercato. Queste le parole della dichiarazione del responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino quest'oggi. Allora andiamo a sentire l'intervista in cui ha anche chiarito che non sono arrivate delle offerte per deporte. Se una società sta da 26 anni in Serie A come l'Udinese, a quel punto si programma di poter crescere nel progetto. Sicuramente non di sfaldare e di disperdere tutto il lavoro fatto nell'ultimo anno, che io ritengo un anno più che decoroso per come si è concluso, ma anche per il girone d'andata dove si erano fatti 24 punti che sono addirittura più di quelli fatti nel ritorno. Quindi la squadra, che se ne dica, è stata tranquilla dall'inizio del campionato alla fine. Io sono convinto che il programma dell'Udinese sarà di crescita e quindi questo abbiamo stilato. Non intendiamo sfaldare la squadra, come sento dire dalle chiacchiere in giro che mi sento di smentire, di tranquillizzare tutta la tifoseria perché al momento è partito Fofanà. Ma se andate a rivedervi le mie dichiarazioni di qualche mese fa, non a caso avevo detto guardate che Fofanà sicuramente partirà. Quindi nessuno può dire che non si sapeva questo, nessuno può dire che se un giocatore non ti rinnova il contratto lo devi tenere, farlo andare a parametro zero, un giocatore del valore di Fofanà. Se poi la scelta di Fofanà è una scelta anche di cuore, questo la dice tutta su quello che è stata la posizione dell'Udinese. Comunque è partito Fofanà, ad esempio è tornato Barak, che è un giocatore che qualcuno aveva mugugnato quando noi l'abbiamo mandato a giocare perché qui non trovava spazio. Ed è un giocatore importante che tutti sappiamo ed è ancora dell'Udinese. Quindi io non vedo volontà di sfaldamento. È arrivato un terzino, un esterno di destra come Molina, anche se fisicamente non è arrivato ancora solo per i problemi che ci sono in giro legati a tutte le nuove normative per ingressi, uscite, entrate dai vari paesi. Una volta che sarà arrivato Molina avremo anche sull'esterno un giocatore importante che nessuno invece considera, che io invece considero come un giocatore che viene a rinforzare l'Udinese. Non è un prospetto, è un giocatore pronto. Sono rientrati molti prestiti alla base, qualcuno con Gotti vogliamo valutarlo perché sia la società che Gotti li abbiamo seguiti costantemente attraverso i mezzi audiovisivi durante il periodo temporaneo di prestito. È vero, è partito anche sì, ma era un prestito. Non è che non lo sapevamo in questo. E c'è la volontà anche di dare spazio costante a Zigalar, che è un giocatore che ora solo sta ritrovando la sua forma fisica migliore dopo il lungo periodo di inattività che aveva preceduto il suo ritorno all'Udinese. Allora, su De Paul le dico, è un giocatore, è un fuoriclasse, è importantissimo per l'Udinese. Non è che noi lo andiamo a offrire in giro perché lo vogliamo vendere. La proprietà, la famiglia Pozzo, ha la sostanza e la solidità per garantirci che De Paul le dico non arrivasse ad avere una collocazione in una grande squadra che paghi quello che è realmente il suo valore e il giocatore sia contento perché dovremo essere in presenza anche della felicità del giocatore. Se non succederà questo, sapete poi tutti benissimo che quando arriva il Real Madrid, il Barcellona, sono squadre che nessuno può dire di no. Ogni società deve sedersi e a volte succede anche alle grandi squadre di dover vendere i giocatori quando sono richiesti a quei livelli lì. Quindi stiamo a vedere cosa succede su De Paul, ma non c'è nessuna necessità di vendere De Paul. È chiaro che bisogna accontentarlo se poi il giocatore avrà una grande squadra che terrà contento lui e contenta l'Udinese. Ma in quel caso andremo a sostituirlo e lo vorremmo sostituire degnamente. La volontà della società è di tenere musso e lasagna. Cioè qui non è che noi abbiamo bisogno di vendere giocatori perché abbiamo un bilancio che non sta bene oppure abbiamo una proprietà che non ha la solidità per affrontare il piano economico della stagione prossima. No, ripeto, il programma che da direttore dell'area tecnica abbiamo approvato insieme con la proprietà e con l'allenatore è quello di garantire continuità alla squadra perché è un'ottima squadra e l'ha dimostrato in molti sprazzi del campionato scorso e quindi noi non abbiamo nessuna intenzione di non far crescere questo progetto che finalmente sembra avere anche una propositività di gioco importante e una continuità tecnica con un allenatore che è anche un allenatore rampante che ha dimostrato di poter fare il primo e ora ha voglia di confermarsi. E oggi alla Dacia Arena ha anche una visita molto gradita, quella dell'ex capitano Totò di Natale, Francesco Pezzala l'ha intercettato e lo ha intervistato per noi. È tornato il capitano, Totò, come mai questa visita all'Udinese? Mi fa sempre piacere, credo che ha salutato tutti i vecchi compagni della società, il presidente, sono arrivato di riservi qui a Udine con la mia famiglia, sono venuto a trovare anche i ragazzi delle scuole calci mie e il personale dei Donatello e mi fa sempre piacere tornare qui a Udine. Cosa pensi di questo ordinese? Il finale di stagione è stato molto buono, c'è poco tempo per preparare quella nuova, però il gruppo sembra ben amalgamato, ben composto con il tecnico Gotti che ha fatto molto bene. Tu che l'hai vista anche dall'esterno, come l'hai vista questa squadra e come pensi che possa comportarsi nel prossimo campionato? È una squadra molto giovane, il Mista ha fatto benissimo, principalmente anche il Gio di Donna ha fatto molto bene, ci sono tanti giocatori bravi, la società è molto attenta su queste situazioni, adesso si riparte subito con la mentalità di fare medie l'anno scorso e cercare di fare divertiti i tifosi che sono meriti insieme con la società. La società è sempre all'avanguardia anche nelle presentazioni delle maglie nei giorni scorsi, siamo stati a Lignano a Grado e questa bella nuova maglia, tu che ne hai indossate tante di maglie dell'Udinese, cosa pensi di questa che rievoca un po' anche il passato e soprattutto che emozioni ti dà ancora avere una maglia in mano dell'Udinese? Fa sempre piacere, per me è sempre un onore perché poi ho fatto 12 anni qua, ho vinto tante cose, ho fatto tanti treguardi, è una bellissima maglia, è una maglia che pesa molto perché chi viene a giocare qui a Udine deve capire che viene per vincere, viene per farla sudare e cercare di dare il massimo dei giocatori, il massimo della società, è una maglia bellissima, è una maglia che mi piace e adesso uno me la faccio regalare volentieri. Sei dirotto, tu dici questa maglia pesa, pesa anche il numero 10 che però con De Paul abbiamo visto, è riuscito a portare bene il numero che tu per tanti anni hai avuto sulle spalle. Sì, sì, ha fatto un grandissimo campionato, un ragazzo che ha due anni che sta qui a Udine ha fatto bene, è un giocatore molto importante per la società, speriamo che rimane, se no si farà un'altra strada perché è un giocatore che si merita una società importante, però sono contento per lui ma sono contento anche per la società. Prima di salutarci torniamo in via Cividale, torniamo di fronte all'ex caserma Cavarzerani con Francesca Santoro perché i manifestanti si sono mossi, hanno attraversato la strada e stanno parlamentando con la polizia presente. A te Francesca. Sì, Valentina e Tony si stanno surriscaldando, i manifestanti hanno attraversato la strada, si sono spostati dal bar all'atrio antistante la Cavarzerani e di fatto se la stanno prendendo con i rappresentanti delle forze dell'ordine e della Questura perché stanno dicendo che anche loro dovrebbero reagire, che non dovrebbero essere qua a tutelare delle persone che secondo loro non hanno alcun titolo per essere ospitati dalla Cavarzerani. Ci sono pochi residenti, a dire il vero, tra tutti questi manifestanti, alcuni di loro hanno espresso il loro disagio, la loro preoccupazione per il fatto che già oggi, da quando c'è la Cavarzerani non è più zona rossa, hanno visto gente entrare e uscire, sono preoccupati per lo spaccio di droga, dicono che le donne sono preoccupate a girare per il quartiere, quindi i motivi di malcontento esposti sono tanti. Questa è stata presentata come una manifestazione apolitica ma di fatto ci sono anche molti rappresentanti di Casa Pound che stanno appunto parlando, parlamentando con i rappresentanti della Questura. A te la linea. Grazie, grazie Francesca per questi aggiornamenti che eventualmente vi daremo anche nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale alle ore 22.30. A noi intanto vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata con Udinese TV. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.